O come and more, will come and more Nessuno riceva il corpo di nostro Signore Gesù Cristo sulle mani Dalle rivelazioni delle anime purganti tramite la mistica Maria Simma raccolte nel libro Fateci uscire di qui Lei saprà certamente meglio di me quanto sia controversa la questione della distribuzione della comunione in mano Come mai? Alla gente non si è mai dato un quadro completo della questione Ed essa farebbe bene a richiederlo La legge della Chiesa afferma che le balaustre intorno all'altare vanno mantenute almeno in parte per coloro che desiderano ricevere la comunione sulla lingua ed in ginocchio Queste furono le parole di Papa Paolo VI Quindi tutte le Chiese che non hanno le balaustre sono fuori legge Le anime sante mi hanno riferito che non un solo Papa ad oggi ha mai voluto una cosa del genere che fu fatta passare per motivi politici da un gruppo di cardinali e vescovi La fascia più anziana dei sacerdoti e dei vescovi lo sa E nella stragrande maggioranza dei casi non lo ha voluto rendere noto ai fedeli Sono costoro, quindi, i maggiori responsabili Tutti i Papi, a loro volta, sapevano benissimo che la pratica della comunione in mano era lesiva del timore riverenziale del Santissimo Il nostro attuale Papa Giovanni Paolo II distribuisce la comunione solo in bocca Date le circostanze, non è naturalmente peccato per chi si comunica ricevere la comunione in mano ma supplico tutti di ascoltare i nostri Papi Questa pratica, inoltre, ha reso più facile il sacrilegio Ricordiamoci che coloro che organizzano riti satanici sono disposti a sborsare cifre notevoli per attaccare Gesù direttamente attraverso le ostie consagrate, trafugate dalle chiese Dobbiamo smetterla di rendere così facile l'accesso al Santissimo Se tutti i sacerdoti pregassero di più lo Spirito Santo ed il Rosario nessuno di loro si perderebbe in questioni del genere come purtroppo avviene così facilmente e così frequentemente al giorno d'oggi Se i vescovi ed i sacerdoti più anziani dovessero chiedere a tutti i loro fedeli oltre la quarantina se vogliono ricevere la comunione in bocca ed in ginocchio questi probabilmente accetterebbero dimostrando così che la maggioranza dei fedeli preferisce fare così Nessuno può asserire che due generazioni fa si pregava di meno di oggi poiché è vero l'esatto contrario Con il ritornare ad atteggiamenti di maggiore umiltà e preghiera i giovani imparerebbero presto il valore della posizione umile e penitente dinanzi al Santissimo Ho persino visto persone scavalcare chi era in ginocchio Ho anche visto bambini ricevere la prima comunione obbligatoriamente in piedi Con grande dispiacere dei genitori e dei nonni Tutto questo è opera di Satana e mi addolura profondamente E quando le persone mi dicono di farlo per un senso di amore fraterno non volendo andare controcorrente dico di no Perché se l'amore fraterno è contrario al nostro umile timore riverenziale nei confronti del Santissimo e del Divino Amore di Dio allora questo permissivismo è solo indice di debolezza e non è da Dio Mi ricordo anche che quando i Vescovi tedeschi parteciparono alle manovre per far approvare questa pratica al Papa Gli americani furono i primi ad essere in disaccordo perché, dicevano, egli non la desiderava eppure guardi come è andata a finire Quanti sacerdoti abbiamo perso perché allora non si erano sentiti di andare fino in fondo alla questione Molti Sempre per quanto riguarda l'argomento della comunione in mano accadde una cosa strana mentre mi trovavo a Monaco per una delle mie conferenze avevo ad un certo punto affrontato anche questo discorso che provocò una reazione molto vivace in diverse persone Improvvisamente mi trovai investita da tre persone che mi gridavano contro contemporaneamente Ah signore aiutami dissi tra me Mentre l'ambiente si surriscaldava sempre di più si levò in piedi dal fondo della sala una donna di bell'aspetto sulla quarantina vestita con un lungo abito nero che si rivolse all'assemblea con molta dolcezza ma anche con estrema autorevolezza riportando dopo un paio di minuti la calma in sala Fui molto colpita dalla sua conoscenza dell'argomento e dall'amore con cui lo presentò Alla fine dell'incontro chiesi agli organizzatori di presentarmi la signora perché la potessi ringraziare per l'aiuto prezioso che mi aveva dato Credevo facesse parte del comitato che mi aveva invitato a parlare del purgatorio Gli organizzatori invece mi risposero che pensavano che fosse una mia amica C'eravamo sbagliati tutti La cercammo insieme ovunque Poiché l'incontro era per invito Andiamo all'ingresso per sentirci dire che nessuno che corrispondeva a quella discrezione era mai entrato o uscito dall'ingresso principale e da nessun'altra parte non essendoci ingressi secondari Era un'anima del purgatorio vero? Con tutta probabilità Allora alcuni di noi pregamo per lei Alcuni affermano che dal momento che Gesù aveva distribuito il pane nelle mani dei suoi apostoli durante l'ultima cena è giusto che il sacerdote oggi faccia altrettanto Cosa ne pensa? Non è vero Caterina Emmerich e Teresa Newman forse in assoluto le due più grandi mistiche tedesche ebbero entrambe il privilegio di vedere quella scena dell'ultima cena in cui Gesù poneva il pezzetto di pane in bocca a ciascun apostolo La prego Cerchi di capirmi e di credermi Non sono l'unica a dir questo E precisamente di questo problema oltre ad altre questioni relative che si discute ai massimi livelli della chiesa e so che anche questa volta Gesù prevarrà per quanto caotiche debbano ancora diventare le cose Ma mi perdoni quanto fu mostrato a Caterina Emmerich e a Teresa Newman rientra nella condizione di rivelazione privata Sì si tratta di rivelazione privata ed in ogni momento della storia Dio si è servito della rivelazione privata per raddrizzare le cose Come chiunque può confermare se guardiamo i casi più famosi nel corso della storia i frutti che ne derivarono furono importantissimi con un numero spropositato di conversioni intorno ad essi prendiamo Lourdes Rudbeck e Fatima o il caso di Teresa Newman per non parlare delle milioni di conversioni che si sono avute negli ultimi 14 anni attorno agli avvenimenti di quell'umile village al confine della regione più instabile d'Europa mi riferisco naturalmente a Meggiugorie Maria lei è davvero convincente ancora una cosa quando un gruppo di vescovi chiese a madre Teresa quale fosse secondo lei il male peggiore alla base dell'attuale crisi all'interno della chiesa rispose il peggior male è l'atteggiamento moderno di ricevere la santa comunione di ricevere la santa comunione Jesus, our love is merciful For more information, visit www.fema.org